Un attimo solo Un attimo solo, un attimo solo Buonasera, buonasera a tutti ragazzi Buonasera Ciao e benvenuti alla live Serale dedicata a fuori Guys, oggi per provare a vincere Forse ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo Cambia di outfit per il conto di camera Vedi come il tuo cuore Woohoo 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 Nice for the boy Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Salta, 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 salta. Salta, salta. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Buonasera. a tutti. Grazie 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 a tutti. dai non è possibile fingiarlo però porco dio dai ma vaffanculo sto gioco ce l'ha con me ce l'ha con me questo gioco ce l'ha con me non c'è altra spiegazione penso che sia il gioco stesso che ce l'ha con me mi fa disconnettere dal server ma ti rendi conto mi fa disconnettere dal server mi fa disconnettere dal server ma qui neanche forse ne riusciamo a tenerle io mi affido alla mia squadra perchè qui sinceramente è molto difficile farci 50 secondi 59 abbiamo avuto il senso di aver visto che adesso è la fine 55, 54, niente ok 4 palle non so come ma va bene 4, 30 ok vabbè 39 secondi 5, 7, 8 solo faccio maledetto questo cactus mannaggia al cactus ok no 2 palle no 2 palle se marisco 4 palle 3 palle vale meno 15 secondi tanto che la non dipende 3 palle 4 palle no 2 palle 2 palle no 2 palle no ti prego dai vai vai dai prendetene una no 2 palle no dai rubiamola una ai rossi mettiamola vero no una palla ti prego ti prego Gesù live show live show live show live show live show live show oh porca miseria dai non è possibile dai non è possibile va favore e tu non lo perde sempre ma va favore non bestegno ma io lo devo quittare non so perchè non mi fa più live show non capisco perchè io non voglio neanche assiccare a lui che prego che questo gioco i giochi a squadre sono la rovina l'unico modo per vincere è con i giochi in solo i giochi a squadre sono la rovina e questo di tutto posso giocare certo è il bila che puoi giocare basta che mi dici il tuo invito qua cancello ma se non ci i tuoi viti divio la richiesta ai primi dimmi i tuoi viti aspe arrivo subito fanno un altro intanto d'accordo andiamo a farlo l'altro è buono vediamo se ho avuto un po' 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 il pacismo ok quello delle porte è un gioco semplice si paga sulla tempistica si può fare un gioco semplice posso bacere la tempistica la tempistica e i i i i i ok questo dog, ma non ce l'ha fatta, mi dispiace per questo dog ora è un gioco a squadre o survival, dai survival è un uova no, vabbè un altro race, vabbè proviamo comunque Dylan Ertrup, d'accordo in Dylan, allora dopo questa partita ti invio la richiesta andiamo almeno in due, magari ce la facciamo, anche se a fine la vittoria, ce la troviamo contenta almeno mettiamo in un segnale no, era battuto che qua è impossibile si è no 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 dai me la rischio, me la rischio, me la sto rischiata male insieme quindi quello che l'è passato no porco due oh meno male non ti credo ovvero questo lui buco è la terra era un vitto il tuo luogo è un gioco survival col tronco secondo me secondo me è un gioco col tronco no logic no 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 non è vero non è vero non è vero non è vero oddio io giuro che lo trovo questo io giuro io giuro dedicherò la mia intera esistenza a trovare questa persona qua lo giuro non ci credo non ci credo non ci credo non io la dedicherò tutta la mia vita a trovare questa persona qua e appena l'ho trovata per lui sarà la fine non è possibile no non è possibile no non è vero è un sogno è un sogno è un sogno non è vero non è vero non è vero non bestemmia comunque assurdo allora ora ti invio la richiesta non è vero ho cambiato la richiesta ok vado in viso questa volta c'è un party è un party atto va beh sì non è male buona si buona si buongiorno buongiorno come va bene bene qua come si vince hai già vinto a questo gioco sei volte mi pare come hai fatto è culo ma con gli esagoni pure hai vinto ho vinto solo in quella praticamente non è possibile assurdo è la mia preferita no mai vista mai vista ho fatto 5 uini quella no come non non so come fai hai un talento naturale io non riesco adesso insegnami adesso se ci arriviamo spero di sì ho 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 asia messi bene scuola penso qualificato la prima e i giochi a squadre io gli odio ma leggermente non c'è un sacco di persone che avrebbero un botto di guinze non ci fa sesso i giochi di squadra bravo, bravo, penso anche a così poi quando fa i giochi game dispari ma quelli non li ho mai visti dispari per ora io il calcio sempre ho capito nella squadra che no, pazza, pazia questa un survival in 42 in 42 vabbè io gli spostavo da un giallo all'altro sì 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 anche faccio così in 42 vabbè 17 ma non credo di essere mai morti in questo è una volta quando spingono se spingono bene ho già 14 morti 15 morti 15 morti lol sono già morti tutti alla prima ma sono nabbi 16 morti qualificato dai easy ma come hanno fatto ma erano ancora ventissimi ma meglio così meglio voi meglio 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 2 eh gli altri non ho piuttato finca incazzati neri bestemmiando come cazzo è fatto accadere ho c'ho un cheater qua oppure non lo so no no aspetta che nervoso che non è con la squadra questo quello lì no è il palle ho collegato wireless ah c'è quello scarico ho la coda ma non la voglio oh maledetto oh malarumano io l'ultima volta che ho giocato a sta momentà ho clippato mi hanno proprio la coda da 30 metri da 30 metri che adesso come è possibile da 30 metri si è meno la coda prendono da 30 metri assurdo io vado vicino loro aspetta lì in culo io li la prendo non lo da un'altra parte della macchina ma proprio poi lui ce l'ha no ladro ladro aiuto buongiorno eh buongiorno buongiorno 44 mamma mia devo scappare qua manca ancora un'eternità eh si in realtà sono 30 secondi però tanto io io perdo perché tutto ecco appunto guarda tutto il game che l'ho avuta 15 dai l'ho persa ora l'ho ripresa cosa ok l'ho persa dai 10 secondi no aiuto che paura 10 no porco dio l'hanno rubata all'ultimo secondo no non ci credo non è possibile non è possibile all'ultimo secondo me l'hanno rubata no tu ti sei qualificato Non ci credo All'ultimo secondo Dio caro che torvoso Porco dio Se fai a seconda Prova a vincerla No no Oddio questo ti ha messo Se metto primo Cosa faccio? Sono primo Sono messo benissimo Fammi vedere come si fa Maestro Questa non l'ho mai vinta Ma devi andare a sinistra Ne hanno sempre detto questo C'ho una tattica io Hai la skin ok Ma guardate Ma pensa te Questa non ve l'ho mai sognata No dai Aspetta si alza Oddio no se la prende No Cazzo peccato Perché è stato in quel punto Ha vinto lui Si è fatto prendere Dalla Eh vabbè Cosa che Girova mi ha bloccato Ma Avesse fatto ex Avrei avuto più possibilità Rip Rip Ho visto che si è bravo Cosa che sta sta Old dog Cos'è sta schimando? Vabbè Per la simpatia Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Cosa che si è bravo Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Esce dall'occhiere Allora abbasso Oddio hai ragione Lo senti ancora? Senti ancora? No infatti Si è baggato Oh ma c'è il gioco? No Ok Questo lo odio L'odi Non passo male nelle porte per primo Perché si No no ma nemmeno io Io seguo la massa Ovviamente Ah beh le prime si No cazzo Cazzarola Cazzarola qua Porca demonio Guarda quanto sono Quando spingono così Mi mettono nervoso Guarda che è sembramento Ma nonno Peggio delle Cavolo ma Poi mi spinge anche Capito Ma cacco la rosa Eh infatti Questo gioco insegna bene A mantenere le distanze Oh no io non so se E' educativo A questo gioco Sveglia Il lato malvagio Delle persone Oh meno male Top 20 Almeno qua Minchia Non è 39 Uno almeno E' così piccolo E' così piccolo i server Solo Che incontri gli stessi No 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 che palle Non puoi farmi scramble Non ho questo Non tip giallo Non tip giallo Siamo nel Io spero rossi 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 Il finale Server disconnect Vero Eravamo insetti Questa è pinta Io ho Pinti Disconnete Sai quante volte ci ho bestemmiato Per questa cosa qua Perché dico va bene perdere Ma se io vinco Tu mi disconnetti E' una cosa veramente stronza Scusa Ma c'è gente che addirittura Vince le partite E poi lo disconnette Da dire la corona Ah questo no Se me lo fai Io non ci gioco più No se fa questo no C'è da quanto punto la corona Troppi giorni Per cui Dico Beh I pirossi Sono troppi Attenzione Cheat Cheat Ah vero Eh no Ma c'è poi c'è Non c'è il sud Death round No E vuol dire l'overtime Occhio occhio Dipende Se i gialli Se i blu prendono un'altra palla Si vanno in un time No Occhio Dai 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 5 4 3 2 1 Qualificati Beh Oh mi sa che c'è il logic Io ho dormito 0 ore Te quanto hai dormito Quanti giorni sai Nooo sto gioco Eh quanti giorni stai 2 3 Bravo Il record è 3 Poi basta Io sto a cercare di non abbioccarmi perché No a parte l'ultimo Devo fare il tuo giro Non posso citare Oh io No no si 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 Quel trucco la guarda io non te lo consiglio Io lo faccio Io lo faccio Io lo faccio Io me la prendo con calma Eh bravo bravo Io mi son mancato Stanno spingendo Ma questo dog cade da solo Ma che cavolo Tra l'altro Dici? Eh questo No dio mio No non dirmi Mi blocco qua No 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 dio caro No l'odio Quanto l'odio Quanto l'odio Ma poi l'odio soprattutto le persone che cazzo stanno lì a fare la fila dio mio Non si muovono Niente Io non ce l'ho fatto Perché io mi sono sempre qui Questo pezzo Questo Va Ma qua devi farlo piano Fai piano Nella volta Vai 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 Occhio Non ci Ma si è morto? Aspettato Ok 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 Vai 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 Sei te? Non fatica Sei te Si è qualificato Ma siete in otto Dove siete Eravamo in venticinco Ma lì si baga Quel punto là Quel punto là Dove ci sono le cose che vanno contemporaneamente No ma lo sai che mette calcio Quanto scommetti che mette calcio? Mette calcio e poi fa la coda Sì Oh che culo Cazzo dovevo sopravvivere Questo era l'unico che potevo farcela La faccio da un botto sta mappa Sembrava che ve l'avessero elevato Io l'ho vista solo in gameplay sta mappa Che culo Che culo che hai Che culo hai vinto Guarda qua hai vinto Con la fianco a me a destra E quello che hai vinto Oh Occhio al di cade Ma quello È un pazzo Ma no 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 Vabbè vai I primi sono lenti Cinque volte l'ex Sì ma questa è facile Io spero non vinca solo Lui però la Il fagiolino per capitura Quella di prima Perché salto male Perché salto da mangiare Ma perché non sono sopravvissuto Ma non Oh Occhio Grazie Ma sei vivo Ma sei morto No Sono morto sì Mi non spinto Senti ho capito che è successo Mi hanno pagato lì Rip Sì anche qua Sono stronzi giocatori Prima logic Quello con la frutta Mi hanno spinto di sotto Mamma L'importante che non vinca Sto facendo Goto È morto Goto Posso quittare Sono realizzato Sì Ma ho capito perché Cosa succede se vinceva il nuovo Eh no L'ha già vinto La parte di prima Allora io ho una corona Ma come una corona Non l'ho mai vinto Come possibile Del passo Ma che se so dare le corone del passo Scusa Vabbè Ne dava tre Ok ma poi Poi cosa te ne fai delle corone Niente o Per vedere Le skin Ok Tipo io quella che avevo prima Non questa cosa che ora l'ho comprata a 5 corona Quindi praticamente A prendere tutte le skin Allo scopo Può essere È pratica Questa Devo riuscire ad arrivare prima Perché voglio vedere Che vedo molto spesso Delle compilation di 4guys In cui c'è gente Che In questo punto Qui dopo questa elica qua sotto Si mette sul lato E si fa lanciare Dalle Oh A me è successo A me è successo Questa cosa qua Che dici Te È stato epico Buongiorno Però è difficilissimo No cazzo Non ce l'ho fatta di culo Te lo dico Mi ha spinto indietro Non ci pongo tanto Oddio Dai Mi spinge indietro No cazzo Cazzo ma non Ma non mi ha preso Ok Una cittica fantasma Dai dai non Ombelule mi faccio la fai Dai Dio mio A massima sei già lì Dio ma E ci provo Va bene Ma perché devono spingere Questa gentaglia Però ce l'avevo fatta Ce l'avevi fatta Sì 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 C'era un'elica in mezzo Io non me la rischio Ma porco Due però Non mi rieco Fa sto santo Bocca Oh ce l'ho fatto Il mio Dio Arriva Vai vai Non mi rieco Ma io che ti qualifichi Perché Non so Questi balli Nella mare Senti resti Sì Va bene sei qualificato Ma infatti ormai te ti vedo calmo Si è abituato Quindi se io continuo a giocare Divento così Come te In teoria E neanche dal tipo di persone Io Di più sclero molto spesso Ma ora Se hai 40 del mattino Non mi sembra abbastanza opportuno Allora un giorno vieni alle 3 di notte Così voglio vedere No dove dovevi darmi tipo La stessa sera Alle Erano state le 10 e mezza 11 Ho perso Non mi ricordo dove Ho perso il pad Mi ho tirato contro la sedia Porca E Ancora il segno Ma io un'altra volta Per un altro Per un'altra cosa Contro il muro L'ho lanciato Ah ma sì Ma quello no FIFA Ah vabbè dai Vabbè dai Contro Il sito di spacco Team verde Bene te sempre team verde Io sicuramente Il team Ah vabbè Vabbè Siete tutti i colori Vabbè dai Io ho la coda Stare del male Martello Sare del martello Dico così Una tattica perfetta Perché mi devi grabare Non c'è una coda Minchione Capisco E lo fanno apposta Per sfottere Lo fanno per sfottere E' una tattica troppo Buona Metto qui E spunto Una cosa E' una foto Tipo questo rosso qui Buongiorno No Tommaccio un giorno Che mi sa coprendo La tattica Io grabo di tutto Quanto stiamo Stiamo a tre Cavoli verdi Verdi dominano Verdi dominano Verdi dominano E' un montonso 5 9 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 Oddio 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 Non l'hanno preso Non male Non male Io grabo le persone Conciano 7 4 Vabbè i gialli li vedo messi Maramente male Non so che non Non avranno una buona vita Non so se si calificerà Un giallo qua Lo voglio farlo No 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 Neanche messi tanto bene In realtà Dai no 8 7 6 5 4 3 2 1 Vai 7 Siamo arrivati i primi Gigi Ma la metto un survival Secondo me E' bravo C'ho pensato anche io Con la frutta E' quello con la frutta Sì Eccolo qua Frutti Ciutti Oddio 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 Io qua vinco poche volte Io perdo sempre Mi arriva i mirtili Le fragole Le banane Le mele Le angurie Ma poi cosa cazzo ci fa un tronco Cosa c'entra un tronco poi Sì Sì Sai quante volte ho perso per colpa di quel tronco di merda Ma donna Ti butta giù tutto lui Tutto ti fa perdere Ecco la mela La mela in faccia La mangio dopo la mela Se ce ne voglio Non mi stasca cazzo Madonna mia La banana La banana Ma non mi ha fatto un liscio Oh Dai No No Un tronco di merda Non visto Aiuto Vai 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 Ce l'abbiamo fatta Meno male Vodo anch'io Strano Strano Questa cosa ovviamente strana Che vinco a questo gioco Ovunque Ma quel tronco è un figlio di Puttana Perché ti butta giù tutto Capito Appena lo prendi Meno male Meno male Perché c'è un tipo suonando il fio Ma poi se notti Quando finiscono i coriandoli Dicono delle frasi Sì è vero Non sempre Però a volte le dicono Delle frasi a caso Ma se fa il calcio Ma se fa il calcio però Porca Dici? Il calcio odio O il flipper No 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 Ti Questo è peggio Questo è peggio Il calcio però Voi lo Eh io seguo la massa E faccio Anche io se ero il primo Seguo questo Orca Madonna Filce paio un minuto. vai 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 quanto spingono la gente graba posto odio mio di un mio testo no non ci credo no che palle ma va fanculo perchè cazzo mi spinge quel figlio vabbè basta non parole st st ti mette esagoni o le code potrebbero anche le code forse non credo ti ridassero quello di prima forse o calcio un po' di roba eccolo qua conto conto adesso voglio vedere come fai l'unica mappa in cui ho un minimo di possibilità di vincere sempre che non mi vado da bucare tutto sotto io voglio io voglio sapere come fai adesso lo vediamo iniziamo male ok ok quindi tu vai al centro ora fai tutto così così non posso fare niente io non posso fare niente cazzo ecco sbagliato pure troppo frettoloso sbaglio eh ti giri così c'è il tempo eh questo punto l'ultimo lo sospettando il dinosauro sbagliato se sopra i cosi blu te ok nello scasso vabbè dai se è sopravvissuto abbastanza poco il calcio sapatica mondiale ultimo spaccato il centro affare sottilino 3 su 8 la taglia la strada la taglia per me oddio l'uomo 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 sono tutti qua per caso ma questo non è ma questo non è non è quello è lui si no non ci credo non ci credo ma è stream sniper è pure italiano guarda Diego o è spagnolo ma ci sta guardando la live stream sniper non so come fa come cazzo fa ad essere sempre lui no se capita ancora c'è qualcosa sotto ci sta guardando ci osserva secondo me capisci io arrivo sempre in finale e vinco pochissima eh guarda io quando ci arrivo rosico un sacco ovviamente pensavo di aver vinto perchè gli ho togliato la strada invece non è caduto infatti ho visto ci speravo che vincessi te però questa cacola qua questo sgorbietto qua vince sempre questo Diego so come fa ora voglio guardare se c'è di nuovo una partita perchè se c'è di nuovo mi incazzo e se arrivo di nuovo in finale mi incazzo ancora di più dai lo fa apposta ci tormenta aspetta un attimo e fa oddio mi sembra di no 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 c'è c'è l'ho visto c'è ancora c'è ancora l'ho visto non ci credo si 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 l'ho visto si arriva di nuovo in finale oddio non si vede no no non è lui no non c'è non c'è questo è un altro in questo tutti simili si il fagino di merito come si leva ecco l2 secondo me l2 sono per la coda perchè mi chiuso per quello l2 l2 la per i nomi dc si vede di titolo se c'è la coda 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 senza ah beh si ma io credo quasi sempre in un finale solo quando fa un gioco di team o la coda 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 o quelli non perdono i quali sì ma se mette quelli a squadra se mette quelli a squadra se mette quelli a squadra mi fanno sclerare come Perché te non perdi per colpa tua, perdi per colpa degli altri, per questo mi fa incazzare 40 Secondo me mette il tronco No, aspetta, devo fare la coda No, che brutto Che brutto Il covid Il 50% di possibilità di Però se diciamo Rimaniamo comunque Rimaniamo In 20 Rimaniamo in 20 Eh, allora Forse le code Ma già li perdono sempre Si fanno prendere apposta Non hanno capito il gioco Secondo me Ma i ciali sono sempre istante Non so perché Ha detto che nei ciali mettono quelli con poche corvole Oddio, non mi è infettato perché non cogliamo 16 Cavolo stiamo Morendo Disinto Mi stava grabando i miei compagni C'era uno dietro E' come posso rendermi utile se non so l'infetto? Come faccio? Un blocco alle persone Oh, rimane in vita come me Eh, provare in maniera in vita anch'io Problema che è un'altra cosa che si può fare Oh, ecco Perfetto Allora, li contagi Vai, contagiato Dai, devo contagiare gli altri Eccolo là, l'ho visto anche Due, esero No, che palle E' stato Era l'ultimo Ma l'ho affettato perché mi hanno chiuso da due lati Ma infatti sto gioco Qua Oggi fa infettare l'inizio Cerchi di non farli affettuare Molto meglio perché farsi infettare l'inizio Sigeramente Eh, sì No Non so questo Tutto ma non questo gioco Preferisco piuttosto che mette Le uova Ma l'hai notato anche te la sembra Somiglianza di questo Personaggio a un cazzo Sì Direi proprio di sì Da una supposta Dove sembrare un proiettile Oh, non mi so Un proiettile A questo gioco Rifletti Questi gioco Sono questi degli spermatozoi Ed è una gara Per chi deve nascere Su questi qui sono tutti di spermatozo Cazzo di Dio da terapiazione Che poi Pum 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 Dove ho un sacco Io di account play Al 2018 Sempre avuto questo Eh, bravo Anche ho venuto a far così Invece l'ho cambiato Sempre Dove ho anche un'altro Tipo per Quando gioco Un suo Rocket League FIFA Per giocare contro Cioè quello Vabbè sì Qua comunque Quello che ti piace tanto Quello che c'è Ok Ecco Chavolo 4 Per Nuore Se fa così Si fa così Oh Meno male Che l'hanno preso non mi dà mi sono spingendo io non mi qualifico molti dici ma se fai il salto buono quello finale ce la fai non so non mi stanno quando mi fanno passare nelle porte la fisica meteorologica non c'è fatto il giro peccato almeno non c'è il tizio di primo basta che non mette le nuove no vabbè chescaro clic gratis esce free to play non so quando credo ma te il class pagato normale io invece c'ho il bug ce l'ho in cielo non ce l'ho infinito però non ci sono io uso i trucchi ok 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 questo qua il bilancio dc ancora si è vero stessi quello che pensa figure ci hanno bambini otto anni che non sapranno neanche cosa fare collaborano male o no direi di no direi di no forse meno male qua direi troppo di non buttarmi ecco qua si ok 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 tu dove sei della liguria trapallo eh no sopra di te ah sopra di me ho capito non 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 è piano sopra oh madonna son caduto ma ma volzano 6 di volzano 6 di volzano no no ok oddio caro l'ipuglia l'ipuglia non sopra il senso di regione ho capito l'ipuglia 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 tranne in quella l'ipuglia ti qualifichi primo in quello che appena fatto un parto che agente non arriva che non collato poi 32 cosa mette le uova l'ipuglia 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 ti spingono aiuto un po' qua io provo ma se ma qua tanto non muore nessuno se non fanno gli stronzi non muore nessuno l'ipuglia si segue la massa il senso vabbè per il primo sì per il primo il primo ecco qua parco l'ipuglia un'altra ecco qua c'è molta gente che quella la chiamava pesca ma è una mela anche a me sembra una mela infatti cialbollino pure il mela quindi qua in caccia un po' è già morto ok ecco a 2 milioni di 10 anguria c'è anche l'anguria c'è ancora un buro l'anno uva mela ciliegia 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 c'è qua no qua non c'è ma qui non c'è la ciliegia ah si c'era qua non lo ricordavo il tempo lo guardato in questo oddio no mia ma donna cosa cosa sta roba se vuole amore se vuole amore il ciliegia me l'arancia maicamente l'arancia dammi la banana almeno dove boh qua 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 boh non ci credo perchè ho seguito quelli idioti che io che pensavo non ho parole peccato molti cazzo sono caduti lì peccato non ci senti non che meglio se la ci qualifichiamo entrambi così uno dei due azze che ce lo ricorderà non mi e e e almeno una te secondo me te ce la puoi fare però se capitano le code siamo più o meno tutti allo stesso livello perchè poi il gioco ti mette contro non è che e quindi un casino mi hanno bannato da sto gioco dai con bestemminato due volte inciato dove il gioco è come un gioco per il telefono ma quello vabbè non credono poi ti pensavo un altro è quasi da un punto avere libertà di espressione ma si ma poi lì la bestemmia è un intercalare non è che uno pensa che poi perché non ci crede intercalare non dovrebbe nemmeno qui essere vietato massimo easy prima scuola come dire porco cane non è che adesso i cani sono dei porci e si poi c'è gente che a me da fastel fatto ing in giro la gente dice non so ecco una cosa c'è gente che dice un dio gatto poi se uno va a dire il dio cane minchia quello bestemmiato ma scusate io preferisco i gatti cioè io ho un gatto ma che cazzo cambia gatto cane perché in teoria tu cane lo dici alle persone come dispregiativo ma infatti è una cosa stupida il cane è un animale cosa c'entra Dio porco il porco cosa ti ha fatto è un put maiale ma poi Dio cane sarebbe anubis punto c'è una senza no la gente se è strana ancora oh eh qua qua aiuti qua se lo sai se lo sai qua è un peccato perdere non si perde mai a banane anguria vabbè banane anguria non spingete i strozzi secondo me dice anguria per me è banana auguria ecco da mare prova a grabare qualcuno eh oddio il purità pietà formata avanti non ha morto uva troppa roba troppa roba troppa roba eh vaffanculo troppa roba eh vabbè dai mela uva arancia sono sull'uva in teoria qui uva 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 fico che culo adesso qua arancia dai dammi la arancia la banana non parola non guardo più in cazzo ciliegia ciliegio sono dove è secondo me dalla ciliegia guarda sto stronzo dalla ciliegia no dove raiato non me lo ricordo che c'è qua siamo sicuri oddio va finita 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 vai eravate tutti su uno e poi c'ero io con tre o quattro altri con due tre uno vabbè in trenta cosa da adesso secondo me è il race o race on survival team le uova cosa va no eccolo qua race eccolo qua basti no dai qua ti prego no ti prego no a perché te sei felice perché vinci più o meno dipende io mi baggo sempre la ma non e le prime volte e un fio io caccio fino a settimana fa anche meno questa non ha mai vinto passione io fino a qualche giorno fa non la vincevo mica agli altri non mi ha già caduto il percorso ma non si è messa che hanno velocizzato perché non capisco proprio c'è già cadere così il personaggio guano 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 proprio aspetta proprio così ecco proprio così o vai 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 bene bene se non prendo sto dildo qua dovrei farcela no ecco anche qua anche qua qua anche qua è anche qua è cattiva testa di cazzo ma che cazzo stateli fermi coglioni ma che cazzo sta fermo che cazzo stanno fermi ma cosa stanno fermi che fra mi ha grabato ma perché stanno ma perché stanno fermi ma vogliono perdere cosa vogliono fare sei anzi non ci faccio forse non strumenti noministi ovvio ma cosa fanno ma come volevano fare il pezzogli non so farò una volta ogni morte di popo poi questi cosi mettono davanti a posto stutti unica la nostra scuola modo è caduto spero che spero che perda, cazzo però che lui muoia il canarino di Ocano in teoria stanno lì apposta per rubare posto non ha senso sono sempre due aspetto uno si chiama Super Giude01 sono 2-0-1 di merda ma no ha 19 anni minchia ma allora anch'io 19 anni sarò stronzo e io ne ho 16 te quanti ne hai? io 13 ma quello 0-91 ha pure minchia minchia quello 28 anni 28 anni in teoria nooo nooo che palle che palle spero non nel team giallo no vedo un hot dog vedo un hot dog nel team blu e uno no sono io team blu in teoria in teoria sei scarso grazie mille porco mannaro apprezzo molto il suo sostegno aspetta sei nei gialli o nei blu? nei blu nei blu per fortuna c'hai due figli di puttana in squadra su quelli la cazzo cazzo qua nessuno la para ci sono solo io qua ho pure il controller scarico dovranno cavarsela un attimo senza di me che è tuo cugino non è mio cugino è uno che si chiama Ilim Dilan è uno che è venuto a giocare con me dalla live pensi che non c'è neanche la condivisione della voce no si ti sente mi ha detto è quello del 50 euro la stessa voce no non è lui no perché c'è un mio cugino che ha che ha praticamente la voce simile alla tua però non oh mio dio ma nessuno para da noi vabbè dai nessuno para ok vabbè ma si più contenuti oh madonna facciamo i sordi ma qui la gente team blu non collabora proprio guarda ci sono solo io a prendere le palle dove sono gli altri tutti a dormire ah non so oh vai dai vai 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 non ci credo maledetto eh vai dentro ma no ma ci sono solo ma vai dentro va ma vai dai dai ma ci sono solo io nessuno aiuta nessuno ecco dai ma nessuno aiuta figa questo mi fa veramente innervosire oh godo dammi l'uovo dorato dammi nessuno nessuno ma cosa cazzo fanno la mia squadra è proprio mongola sono squadra di mongoli squadra di mongoli dio mio eh no però mi piace dire forza napoli perché mi immagino quel vecchio obeso ubriaco che va allo sta che va nei bar a tifare la squadra eh poi vabbè abbiamo fatto delle scelte tu lo segui si cosa che cosa tipite è una squadra che perde tanto che ama tanto è l'inter che palla che palla mamma mia non dire quella parola certo che lo senti si sente forte e chiaro ah ecco eh vabbè eh vabbè questi qua si faranno la coda di sicuro di sicuro di sicuro la squadra che questa notte giocchi Napoli cos'è? Toro la conosco Torino ah Torino ok eh vabbè eh vabbè io non so ne detto non te lo seguo non so dirti secondo me è bello seguire comunque perché tipo comunque si seguono i sport però a me dà fastidio chi è proprio ossessivo capito? chi è chi è proprio che che per lui non esiste altro capito? ad esempio te già giochi a questo comunque fai dell'altro invece la gente per loro esiste solo il calcio il resto non esiste capito? o chiusi di mente eh bravo eh bravo è giusto così è giusto eh studio c'è più eh ma bisogna esserci come varietà ci deve essere comunque non solo una cosa perché se no se io giocassi solo a four guys morirei probabilmente minchia no ma nemmeno il mio io lo faccio solo per vincere una volta poi boh lo continuerò però io ci gioco perché non ho altri giochi gioco come venito veramente ho presente PlayStation 9 mh mh porca eva si ti dà la prova gratuita ti dà tanti giochi eh ma infatti se lo scarico anch'io mi dà qualcosa non lo so non lo so e per diventire una scaricata di Rocket League non ci credo porco Mannaro una mia amica oggi ha vinto otto volte su dieci partite impossibile ah vabbè la tua amica è messa bene la tua amica amico o tuo amico ha detto l'amica cazzo perché non cambia la regola quindi proprio l'amica è messa bene oh vabbè questo vabbè dai ci può anche stare vabbè se non fosse magari perché è molto veloce quindi quindi ma a me non ho fatto le palle alla fine che mi prendono tutte in faccia no no eh no 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 non diciare ok ok vabbè vabbè dai prostituta si può dire dai oh mio dio all'esagono abbiamo studiato un modo per vincere il 99% poi spira qua abbiamo un esperto lui dice che si trova bene all'esagono giusto e prima infatti è arrivato set penultimo adesso è capitale esagono come faccio a batterti cazzo sono messo no 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 giochiamola bene dai no però io se io voglio vincere io voglio vincere per merito quindi gioca al tuo massimo la mia tecnica è collaudata d'accordo vuol comandare beh ah buon per te oddio non dirmi che questo è è quello di prima no oddio ma è lui è la stessa la skin ce ne sono due identiche no è lui è tornato aspetta è le due leo no non è diego no no non c'è non c'è un altro ok tutti quattro aspetta no non è diego non è diego ok non c'è diego mannaggia diego veramente tu fai un gioco di team eccolo team verde aspetta che vedo dove c'è eh le bestemmie che ho detto oggi team blue io l'ho già poche ma buone ah le fai creative no 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 qua c'è uno del team vele che ci vuole rubare tutto no ma la rubata maledetto per guardare il pedo ladro 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 vieni qua ladro buongiorno sorpresina arrivederci l'hai rubata eh no oddio si ha messi bene 7 devo venditarmi contro questo qua va rubata via anche l'oppesa easy e si va e si va e si va aiuto aiuto sullo slime aiuto mi seguono mi seguono tutti mamma mia mettero come ho fatto come ho fatto non prendervi 80 vele sono venuti addosso buongiorno aiuto aiuto infatti è il proiettile un proiettile in faccia oh mio eh no 15 12 11 10 9 8 7 6 5 no oddio che culo che culo il martello che culo il martello vai molto bene molto bene che culo il martello ho fatto una volta ottenuto per 3 partite ok quindi anche questa è fatta è il team giallo eh guarda ma c'è anche me a chiederlo infatti ovviamente loro sono maledetti si ora ho survival cioè secondo me oppure quello solito il solito no ah beh questo si dai gg squalify grazie mille porcomandaro vabbè dai questo ci sta io lo so come fa la gente a perdere come fa la gente a perdere questo me lo chiedo io non è l'ultimo io non mi cazzo se glicciano glicciano? disconnect no eh no porcomandaro se oggi c'è disconnect qua il tizio sul lato sul lato dice vediamo fermo guarda ah ti sale sopra ti salta sopra e salta sopra e salta sopra ah e si glitch che furbi ma la mia secondo me disconnex speriamo di no porcomandaro speriamo di no che non sia ora di quello si è la madonna leggi quanti si devono eliminare no aiuto stronzo mi hanno utio che culo che stronzi quando spingono non sei vivo se vivo no sono vivo anche io comunque ma ma che c'è questo giocatore di baseball fallito mi spinge assurdo assurdo inizio 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 è vero quello è l'unico problema le persone di questo gioco ok no è vero è vero no no dai fatti certo quello è la difficoltà oddio no quanto c 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 sto dog e la madonna e vabbè e vabbè oddio no ti prego ti prego no dio caro sei morto sei morto pure te sei scarso che palle mancava un secondo non bestemmio sei scarso è una corona che è meritatissima poi dopo al comandare non dire questo ora parlo da parte a parlo 2000 è un po inattivo ultimamente porco mannaro non so che fino a fatto la palo 3000 già è più cioè nel senso so che c'è da fare ma parlo 2000 è strano che non sia attivo anche io devo farci una bella colazione ma te tipo quando stacchi più o meno io non dormo quindi quando voglio torno alle 10 perché poi non potrei svegli non faccio voglia che mi voglia sveglia non ho avuto ultimamente poi faccio pinta di essere svegliato con la sveglia anche io faccio sta tattica anche poi viene il colista che cazzo deve imparare con la bici che se no non posso venire in giro comunque la mattina non è difficile tu aspetta di vedere il pomeriggio è lì che avvengono i veri problemi io ho fatto tante notti in bianco ma io anche durante la scuola io anche durante la scuola non c'ho notti in bianco il mio problema è che non mi prendi questo perché è vero e infatti disconnect no bravo appunto esattamente quel punto io posso anche starla tre ore ma non dormo non mi tiene eh lo so porcomandare infatti e quindi inverno beh ma di verno c'è più stanchezza io mi sento più stanco porco bannaro non penso proprio vabbè poi sei ore a scuola si veramente ma sai quando ci vai io non so se tu hai mai quella sensazione ma con zero ore di sono andare a scuola mi addormentavo sui banchi a un certo punto nelle ultime ore perchè al mattino no al mattino no però nelle ultime ore minchia ti crolla la testa mi ha dovuto svegliare un mio amico ti rendi conto un mio amico mai svegliato e meno mercato eccolo qua logico forse l'ultimo giorno solo perché poi so che non c'è più forse bravo esattamente faccio non la guardo per questo non la guarda guardo dopo un po dopo qualche istante infatti te fai hai fatto le video lezioni di sicuro ma sono meglio secondo me le video lezioni eh non lo so barco mannaro secondo me le aprono invece ma anch'io spero di no però se si va al mare figurati non si va a scuola oddio dovrebbero mandare aiuto non lo so non lo so più hai molto aiuto oh che culo sono morti tantissimi sono morti tantissimi sun 5 su2 buonasera guardo ci vantica ora si segue la massa come il porci io non lo so eh boh boh qua lo dicono tutti qui dicono tutti porco dio tu sei qualificato si che palle queste qua non hai memoria quest'anno le scuole non aprono perché i giocatori vogliono giocare a full guys eh sì sicuro porco vannaro non ti permettere porco vannaro di dubitare delle mie capacità i professori non i fogatori oh questo dai no siamo dispari ma io ce l'ho fatta solo io da solo per farti capire la mia squadra non ha fatto niente quindi ce la puoi fare 6,5 2,2,3 ok godo il blu se nemmeno ok sei in che team ecco di qua ecco di qua ah vai solo te vai solo te loro non lo sanno fare grazie porco vannaro grazie via del supporto ma siete in vantaggio voi a 56% eh sì questa qua lo fanno lo fanno fatto anche a me guarda che bastardi però comunque qua tutti tutti pure i rossi blu rossi mamma mia no vabbè comunque vai 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 blocca blocca no mi ha aiutato la spinta vai 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 ok ok va vai ci pensa di blu guarda i blu come la bloccano e invece l'hanno aiutato i blu oh no 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 la nostra non è ancora scena oddio vabbè 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 guarda dove la loro dei blu easy ma tu mi sono spaventato un botto eh ma porco vannaro ero un po' nervoso la scorsa notte per questo ho chiuso o so porco vannaro che mi hai fatto il trainer però io ho dovuto chiudere perché ero proprio nervoso che la mia squadra il team giallo ha perso perdeva troppo immagina te stare quattro ore perché ho giocato quattro ore di fila senza pause mamma mia ho sbroccato oh ora dimostra le tue abilità posso provarci eh mi dispiace porco vannaro però ora sono in di più quindi sarà più difficile la prossima volta saluterò porco vannaro eccoti qua no non sei questo sbagliato ecco qua so che l'hai fatto anche ieri si è successo anche ieri ma oggi non succede perché è mattina si lo so porco vannare è successo anche ieri no no in realtà non è vero non è vero non è successo porco vannaro perché con la cuffia è successo e poi dopo nel successo un altro serve a discone ok 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 occhio sotto il tuo amico non ha capito la tattica e ma lui ha una sua tattica non usa la tua stessa perché dobbiamo arrivare insieme dobbiamo arrivare noi altri con gli sciocchi porco mannaro non scrivere queste sciocchezze prima devi vedere porco mannaro queste sciocchezze eh ma bevi appena c'è l'occasione buona vedi porco mannaro e vuoi vedere qual è la tattica giusta secondo me te intendi quella di buttarti subito in fondo e di fare il cerchio ma io non mi fido di quella tattica la mi sembra troppo rischiosa oh mio dio eh ma è rischiosa è appunto non facendola perché hai giusto ah ah quindi facendola non muore non mi fai quello mi fanno morire te che più chi rimane tuttanto su carri per sbaglio due carri per sbaglio un salto cadisi quella non è una tattica la mia quella di restare sopra il più lungo possibile ma questa è un po' la tattica generale diciamo che dovrebbe essere una cosa normale eh si del gioco oh madonna seconda volta prometto non l'ho preso anche il checkpoint spero di qualificare che cazzo porco mannaro non è vero vai qualificato cioè qualificato nel senso che posso andare Dio caro quando spingono a caso capito che tipo ti arriva la massa di cadavere vai anche io qualificato grande fado il trick non ti permettere porco mannaro non ti permette tanto mi sto qualificato comunque si mi è arrivato la massa addosso mi è arrivato il cadavere addosso mi è arrivato assurdo assurdo guarda questo poveretto era quello il nostro lì si ma non ti ha spinto nessuno vabbè mi è arrivato un pezzo di cadavere in faccia questo lo posso dire ok 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 42 ah quella canzone mi ricordo ai tempi la cantavano tutti alle medie tutti la cantavano ok solo quella parte ovviamente ovviamente solo quella parte oh no no che palle sto gioco ogni volta spero di essere negro aspetta se vedo uno dog non so vedo uno dog eccolo qua un primo pure pure che bello don't get jinxed e io campero io campero qua facci infettare subito io campero allora no aiuto voglio infettare vogliono trasmettere il covid vai sto vicino al mio coetaneo non so perché devo per forza capagli non posso stare un tira eh 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 no perché li devi contagiare non ammazzare capito e tre e tre vai 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 fateli tutti te fateli tutti te fateli tutti te vai e quattro vai sto cazzo sei sei te li stai facendo tutti te comunque non fatti cinque sei quattro no non mi fecon non mi oddio sono rimasto io aiuto aiuto vai io resisto no ma han contagiato no alla fine sette porca miseria hai fatto tutto te sei sciolto e slegato come un omino della lego eh sì quel gioco non lo devono mettere quel gioco là no non disconnect quando siamo se sono in scuola è difficile che mi da disconnect ne sono in solo sì per al go 5 corone eh beh quattro anni flexi con quel costruppo flexi con quel costruppo flexi con quel costruppo flexo come un vittorico eh beh era una moneta da 2 euro no era una moneta da un euro ma adesso non la trovo eccola qua una moneta da un euro per andare alle macchinette a comprare il caffè che era il caffè costa di meno le macchine se infatti 30 centesimi no di tu a 30 centesimi quelle della scuola il caffè è prof quindi ho fatto un po' viene fatto un po' viene fatto un po' bravo oh mio dio guarda che assembramenti va bene va bene e poi e poi dicono che aumentano ogni giorno eh questo è questo è secondo me vogliono farcelo capire con questo gioco questo gioco l'ho creato l'ho creato l'ho creato uno sicuro uno che voleva fare impazzire le persone un medico un chimico secondo è un chimico famoso ha creato per forza non è possibile una cosa intelligentissima metterlo con il gioco federatico per il pass perchè è solo grazie a quello che è stato grazie a quello che è scoppiato un voto su pc e tanta gente ha aspettato 20 euro per comprare questo gioco di merda si fa vabbè dai 20 euro io 20 euro letteralmente ci prendo eh però dico però dico te comunque c'è il plus puoi giocare a quello che ti pare comunque invece io ad esempio porco demonio basta faccio il giro lungo io invece ho usato il bug però per 14 giorni poi devo di nuovo usare altri bug quindi è un po' una rottura di palli poi ti leggo porco mannaro un attimo mangio tanto ma tanto faccio la tartaruga ah io non ingrasso però non ho la tartaruga ah bravo fai bere oh ma porco dio però non mi va la madonna mia non ci credo non dimmi che non mi qualifico seriamente figlio di puttana cazzo sta lì Diego porco dio non dirmi che non mi qualifico non ci credo c'è un un Diego che sta ostacolando tutto porco dio porco dio porco dio c'è Diego ma dove cazzo sono ma dove cazzo sono c'è 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 mai dire mai porco dio no dio stio santo ma fanculo che palle sicuro boh se vuoi ok che palle non so cosa è successo secondo te se dopo una scorreggia da 5-6 secondi sento saltare un tappino e un pezzo di carota o è proprio la cacca eh non voglio rispondere a questa domanda ma che cazzo ma cosa vuol dire poi non ha senso cosa significa ora mi rifaccio ora mi concentro poi com'è mar dai guarda mi concentro lo chiedevo per un amico appena comprato la sedia nuova si è posto la domanda ho capito del tuo amico forse deve andare da uno psicologo no dai l'amico è diventato da un medico meglio che vada un medico meglio se vada un medico più dello psicologo il migliore questo gioco beh dai non è difficile alla fine questo abbastanza ma si dai ma non c'è gente che non riesce non succede mai mai nemici che non riescono a fare ma è perché loro vanno dove si abbassa ma in realtà il trucco è andare proprio dove si invece si alza il timing il timing è una cosa che se non c'hai non tu cioè tu vuoi giocare alla play ma non tu hai giocato il genere ma non ci si ma non ci vuole nulla per averlo comunque eh lo so per comandarlo se guardi la qui va beh non è troppo difficile porco mannaro ma non per il nome perché ogni volta che dici porco è vero che siamo all'insieme eh beh ti faccio un test quante volte il 3 sta nel 14 se l'avanzo è di 5 eh eeeh eh beh, io lo so aspetta l'ho già calcolato guarda sta, quattro volte no due volte non può starci guarda non può starci tre più tre più tre tre più tre fa nove ah ma beh dai ma che cagata ma che cagata te ne ho parola mi sono sui mediano non vuoi che no la cosa è matematica matematica è basilare matematica cosa vuoi qua tre quattordici non sono numeri punto amici eh ma poi io vado all'alberghiero cosa me ne frega eh alberghiero perché ti piace cucinare perché non ho voglia di studiare quindi vado là easy passi gli anni easy tanto alla fine ma è che ho già morti cosa ma cosa ma che cazzo è durato pochissimo ma è durato pochissimo va bene vai con zero ore di sonno da me faccio un tempo di merda credo sia buono spero ma ma no è vero qua ero morto adesso basta ma la gente fa le orge che un po' anni è ben fatto ci strusciano contro la tua volontà adorerai full porn hub guys oddio si mai si fanno i porno di questo gioco sai come sono che trauma qua si vede lo dog che che scompa al lupo scusa che cazzo fanno il dog che fa uscire al tuo col tuo lo fanno eh di sicuro col tuo col tuo personaggio lo fanno di sicuro oh mio dio che palle che sono tutti questi che spingono se sei distratto e frettoloso è probabile no ma che stronzo che mi ha spinto io davvero vorrei queste persone non so spingerle della vita vera qua oddio cazzo non ho neanche accorto cazzo 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 erola ok mi sono ripreso basta facciamo la finita ok 10 secondi madonna si 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 vai vai 3 2 1 basta finita oh finalmente non sei morto eh non sei morto vero ok la parola avrebbe risposto bene sicuramente lui si oh vai esagoni o o uno squadra no mi sa che metto un survival ancora o un race per decidere o il suo bollo ecco porca miseria no disconnect è qua una volta che va fatto mh dici fa la coda no di best lì mi sa che litighiamo eh lì mi sa che litighiamo no cazzo cazzo ecco già accaduto hai trovata? hai trovata? hai trovata questo sciocco ragazzo è la madonna è la madonna pazzo no stronzi stronzi cazzo 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 ma malati malati proprio sono malati sono malati ma sono malati questi sono malati piano piano di giudizio c'è quello che è sempre gli ultimi b mondo c- dio caro cogen veramente ак cich ti cp cp c services maroran rompipalle che sono questi tizi io mio 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 nome da una si spinge mi spinge pure vai oddio si e abbiamo e abbiamo finalmente bye bye le code quindi cazzo qua si litiga qua si litiga ok oddio si 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 oddio ti prego oddio ti prego oddio ti prego l'unico fattibile l'unico fattibile questo l'unico se perdo qua non ho speranza vabbè va lento com'è com'è la fame non ci credo ok ok vabbè oddio ti 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 no no oddio già si cade oddio ma se cade qua è la fine o devo saltare ma come cazzo faccio lì no vabbè non ho parole se sono morto te sei morto pure te sei morto non ho parole che palle ho saltato perché dovevo cambiare piattaforma perché stavo soprapponendo e c'era la piattaforma ma io sono andato in un punto cieco non potevo fare niente dai vai che scarso vai a cagare mamma mia ma guarda adesso sto preferendo però questo dai è fattibile se hai culo ti si spacca con il vecchio sei te eh sì sei culo ti si sovrapponga sempre bravo i cazzi di cose che girano oh vabbè dai stavolta no dai quanto è cazzo quanto sono arrivato a sto gioco lo fa sempre si diverte proprio mi piace credo sia il mio preferito cioè ci sta come iniziale così dai si non la dico farlo farlo come finale questo ma vai nella vita no la gente che gola pensa a quello dove si bilancia pensa a quello dove ti bilanci quello in finale ma mi sa che esiste secondo me esiste non c'è si è bloccato nella scuola la mano urbino non su ma io faccio un giro lungo un bel rischio non 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 va il primo posto la scuola è possibile che la gente salta sopra vediamo se ti trovo ecco ti vuoi vuoi fare ancora quel trick è la ancora quel tecla a salta prima prima salta ecco salta prima prima salta ecco posto ah ma fa il trick eh già fatto prima oh ma no oh che arriva oh il bike questo rosso non ce la fa poveretto la gente che crede di passare al centro una di culo ci devi riuscire ma una volta ce l'ho fatto tipo io non lo so a me molto spesso mi prende l'elica e mi mandavo a destra però sai cos'è quella elica dovrebbe tipo mandarti dove prende il checkpoint e quindi ti teletrasporti lì ah eccolo qua tre ore tre anni qua stiamo adesso madonna guarda che roba ma tutti i giochi lunghi sta mettendo praticamente guarda guarda tutti come saranno molto intelligenti in questo gioco che collaboreranno sicuramente guarda 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 qua già 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 subito il blu l'ha messo male ecco il giallo pure il giallo pure guarda che roba guarda che roba assurdo ma ma dei porci si fa i porci i porci i porci i porci ma guarda rosa ma se ne fregano proprio come barbari proprio ma si lancia ma quindi si se ne fregano se ne fregano se ne fregano non si puntano al caso oh mio dio si è lanciato al massimo una gente che continua a cerciarsi sopra si è io ne sono trovato non c'è questo guarda guarda che buon giallo madonna devi andare dove c'è poca gente l'unico modo eccolo qua però in tre anni eccola qua o mio dio si quando tipo scivola vero mamma mia da un fastidio che strunzo ma spinto ma che strunzo ma spinto qualificato oddio ma questo non è diego forse ora vediamo sta clip sì sì unico pattibile eh sì perfetti non hai tutti i sorti oh vai vai dai qua vabbè meglio non gufarla però dai qua uno dei due 31 prevedo covid non so perché purtroppo mi sento covid no io mi sento survival per l'altro survival vediamo eccolo qua vabbè se race porca miseria no però dai se abbiamo culo come la scorsa volta come prima siamo siamo unico forci tre resti sì veramente eh se fate race di final allora mette la piramide cioè la cosa di finale ok porca miseria eccolo qua tonco di merda trauma cranico dai cavolo dai cavolo ma che rimbalzi sono ma poi spingono pure ma cosa spingete sciocchi oddio la zucca cos'è e si va bene non ho presi troppi ne sto prendendo troppi non so ne sto prendendo troppi no ne prendo troppi ne prendo troppi non ce la faccio rip rip non lo so no 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 niente no riprito eri troppo troppo a frutta mi sono beccato in testa scarsezza vai cagare porco mannaro che si fa il monte in cui no 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 è impossibile farà squad mentre a calcio altre robe o un survival eccolo qua te l'ho detto ma sì ma sì ti fai esagoni fidati di me ti fai esagoni penso in questo qua dipende da quante persone o le code se non sai cosa ti fa ti fa queste poi calcio che cosa i baghi non c'è un limite di persone che vogliono se non lo potessi c'è un tempo eh ma tutti non puoi riuscire a ucciderli ma adesso stupido tipo c'è c'è gente che ha vinto perché nel gioco di logica sono molti tutti pensa che è puro magari hai rimesso a posto il santino? sì ho rimesso a posto hai visto? sono ritornato come prima ho annullato il passaggio ho ancora zero eh ancora zero no no ora che siamo bravi no 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 un gabbiano oddio uno se forse un altro eh forse no no uno è andato via eh mi sa io qua quattro te l'ho detto sette te l'ho detto otto te l'ho detto nove ma che cazzo te l'ho detto erano morti un sacco oh allora mi sa che fai gli esagoni nove o calcio se è stronzo ti fa fare calcio con un numero dispari cinque quattro bestemmi potrebbe essere stronzo e ti fa fare calcio vediamo ecco serve a disco come la locke e allora vabbè oh quattro reis vabbè alla prossima leati che sia un po' troppo scaso ok alla prossima porco vannaro buona mattinata buona mattinata cazzo quattro reis una survival di una partita non è una cosa nuova tanto io guarda ora arrivo per me la corona si alzi arrivano tutti erdo vediamo ma che cazzo no va il gioco guai questo qua è colpa del gioco ciao anche al tuo collega ti saluta porco vannaro ok vai vincere è complicato ma posso cremaci ecco è iniziato tutto con questo eravamo arrivati a questo round vediamo ma dai però con un po' essere per quanto si abbassa ora eh oh no 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 chi è chi è si è se è diego se è diego no è un altro è un altro è un altro una persona aprendo io aprendo io c'è però non è possibile però no veramente quando arrivo io la corona si alza arrivano gli altri sempre a passare si si ma ma come fanno ad essere così veloci gli altri non ha senso tu non puoi farmi quattro race in una partita guarda adesso adesso mette tutti i race ci scommetto e poi un logic a caso è un logic mette le porte scommetto da mettere porta adesso ho questo presentimento se mette le porte qui perché io le posso ma senti bene 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 e a me una volta mi hanno buttato fuori dalla porta e mi sono incazzato tantissimo ok muore ma ancora ah no è un altro questo ah ok si si ho capito è il classico il classico questo ecco tipo questi tubi qui ora ci si farebbe benissimo 15 quindi ma si tubi no oddio vabbè vabbè tanto fatti questi usi fa stava un po' comunque arrivi prima di cui perchè questi cosa qui non può spingere adesso eh effettivamente oh madonna mia ecco le qua ho raggiunto la massa che la massa si è chiusa vai vai ok ce l'ho fatta non sei caduto porco miseria questa non ci voleva però ma io sono ineruttabile ineruttabile Dio mio ti prego no ok ok forse forse no no mi sa non lo so mi sa di no niente rip vai gioca gioco rip no rip sicuro non ho parole mi sono incastrato con due palle ok allora vabbè effettivamente la primo round si poi quanto sarà durato un minuto tra un po' quindi ma si ma si ma si cosa che faccio questa mi moto vado un attimo a fare colazione attorno anch'io io non lo so o vado o anch'io vado a fare colazione non lo so ci penso ci penso tipo fino alle 9 tipo fino alle 9 potrei fin alle 2 del pomeriggio anzi no peggio peggio qua oh no iniziare così e ho un giorno con questo praticamente bello madonna santa che stronzi o dio mio ma come bilanciano malissimo proprio mamma mia cazzo come che poi loro loro ci credono se ne sono proprio convinti capito come sono convinti che la fisica non esiste le leggi della fisica m 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 credono un peculo dio mio dios mio spiose news porca miseria ecco io ho trovati tutti i diritti che culo tutti i diritti che cazzo mi capi figlio che è caduto il nodo come mi pare mi ha grabato del caduto per cogliere il nodo è una volta ho fatto anch'io sta cagata di grabare poi non l'ho fatta mai più sul girone tipo sul tronco quello la grande no dio cane no dio cane vabbè no stavolta continua però se nel caso non penso però niente niente dio cane sempre non cadere non cadere ma porca puttana no mi sa di no comunque a te continua non so anche qua bilanciano bilanciano alla cazzo alla cazzo di canne il bilan no niente niente rip 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 vabbè 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 grande gg va bene ok vabbè 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 a dopo Grazie. 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 Ok. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Buona. Grazie a tutti. cazzo. Grazie a tutti. a tutti. Vai a tutti. godo, godo, godo. Vai a tutti. grazie a tutti. non è possibile. non è possibile. non è possibile, porco Dio, non è possibile, porco Dio, non è possibile, non è possibile. non ho parole, guarda, 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 guard ma che cazzo infatti ma infatti a davide ora teo tanto spiegati spero ma il gioco è rotto ciao alessandro ciao alessandro benvenuto oddio oddio ti aspetta e vabbè figa figa noi questo hamburger beh effettivamente anch'io onyx oggi è assurdo è assurdo mi puoi mandare richiesta certo alessandro dimmi il tuo id dimmi il tuo id alessandro te la invio ora invitiamo anche lui ma si intre dimmi alessandro vai son pronto sono qua ed io scrivo subito per amante scusate per la schermata aspetta richiesta d'amico me l'ha già inviata toxic flau toxic fever ok ora te la invio allora toxic toxic fever comunque mi raccomando alessandro lascia un phone per supportarlo non ti trovo toxic fever sicuro che ci sia no aspetta 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 toxic fever sei sicuro che sia questo il tuo id perché io non ti trovo con questo id non ti trovo non ti trova con quel toxic fever non è che è una i non ne hai altri di perché toxic fever no con l'uno lo trova pro gamer prova è pro gamer come faccio a trovarti c'è quanti ce ne saranno di pro gamer pro gamer ne ha trovati 400 di pro gamer devi essere più specifico che vuol dire pro gamer pro gamer cosa vuol dire titi ce sono un 400 di pro gamer porca miseria 400 non ti trovo te la posso mandare io certo aspetta il mio id dovrebbe essere aspetta c'è scritto qua no in teoria è il party rapallo 2 rapallo 2 si no non può essere rapallo 2 aspetta eccolo qua mandamela te allora questo è il mio id in teoria ps poi non sono neanche nel 91 quindi non so perché ho messo il 91 prego alessandro eccolo qua credo appena me la invii dimmelo alessandro vabbè intanto facciamone una a sto punto facciamone una tanto che mi la richiesta ne facciamo uno però maria ti sei dylan vai facciamone una intanto che invia la richiesta se vuoi vai eccola qua mi è arrivata toxic fever va a sto punto se tu puoi se tu puoi ok ora ti invito nel party ti invito nel party allora eccolo qua toxic fever perfetto vai devo fare gruppo menù viz player toxic fever è un bel po' forse io da tre ore più o meno nooo molto di più come di più no di meno 2 ore e 55 minuti ho la live io ho giocato dalla live quando sono dovuto io eh quasi sì quindi sì ma la struttura è 2 ore e 3 quarti più o meno sì poi io comunque penso di fare le ultime perché poi eh sì esatto pure io vai toxic ti ho invitato ecco te qua buonasera ciao ciao toxic benvenuto buongiorno buongiorno beh com'è bravo questo gioco è bello il tanto che ti fa molto sclerare eh sì asfettate due secondi vado a fare croccione poi arrivo subito scusate due secondi vabbè vabbè ho partito e sono livello 33 ma io 21 vabbè ma qui te c'hai un sacco di skin quella che hai te è così o dog vedo comunque che con il pass non è che te ne danno cioè te ne danno alcune il cavernicolo è bella ma il tuo cos'è? ma il tuo cos'è? non c'è nel pass la tua skin questa qui quella è il proiettile non c'è nel pass quella era esclusiva ah era esclusiva stava cinque colonne come vedi il robot oddio che bello no cavolo bellissimo il robot questo vedo tra una cosa per questo non lo voglio prendere ci sono da coschino molto beffigli di questo qua ci sono anche delle cose strane che potrei prendere le prendo? ma si purchase vai purchase buy purchase buy purchase sto shoppando buy purchase ho shoppato tutto lo shop perfetto di quel cosi viola non ho 35.000 ma un bot cioè potrebbe quest'anno avere tipo 20.000 in più quindi c'è un po' da 5.000 ma oh boy qua cosa c'è? controller cosa posso cambiare i tasti? no vediamo i nomi di chi ha creato questo gioco questo abominio joel herber steven taylor guarda tutti i nomi di gente severa joseph walsh meg ralph anthony pepper vedi se c'è un diego tra questi guarda se c'è un diego ruben merincon garcia cioè degli audio si è occupato solo una sin solo una persona bello questo dove è? network engineering support multiplayer guys ps4 vediamo tony bratton me lo ricorderò lo male dico unity account management griffin bello a rocco lo scalzo come rocco lo scalzo un ringraziamento speciale a rocco lo scalzo ma che indigo pr ma che gioando la corre kake kake ashi games game nuts special tanks è vero vediamo se c'è rocco lo scalzo no ma è sopra rocco lo scalzo rocco lo scalzo roberto rodriguez rocco lo scalzo ai uniti puoi farne uno intanto ok ho fatto la unity ho fatto la unity bene effetti la unity fa questi giochi tipo così no 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 la unity mi sa che deve aiutare perchè la casa produzione c'era devolver digital si ah tipo la unity ha tipo ha visto qualcosa in sto gioco e ha dato qualche contributo per farsi i soldi come fa vedere quanto costano dove vedi come vedi come vedi come vedi va in uno shop eh ok è tutto a destra ah ecco ho visto ho visto ho visto get get kudos questo qui è vero se vero 10 euro 10 euro 20 secondi io quindi nel mio profilo in questo momento sono più di 10 euro nel mio povero io ma non non è che si possa invertire eh ti piacerebbe è vero che è questo un verso del pollo bene sono tornato buongiorno vai ti ho invitato prima perchè? deve aggiornarti? ok non ti perdi nulla? eh no dai ma anche a te non ti è ancora partito? no no ecco connection error bello scrive alle 9 del mattino anche il nemico che troppo proviene da me alle 9 del mattino viene e non è ma poi scrivemi giura si sveglio si giura scusate questo che si vai ti ho invitato ti stai ancora aggiornando? si 3 minuti rimasti ok questo punto non ti manca aspettati fida di come farete una vita magari a parte che poi bisogna competere quindi salut covid no dai ok 105 secondi beh oh con questo gioco non l'abbiamo mai fatto sbaglio è nuovo è nuovo Dylan è nuovo questo bellissimo la mia cos'è? beh l'hanno aggiunto adesso perchè io non l'ho mai visto si questo giorno è infatti un po' no no io ieri ci ho giocato no non mi ricordo no ma però è la mia 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 bellissima sono bravissimo a noi sei quante volte ci è capitata questa mappa troppe volte stamattina ci è capitata questa mappa e un sacco di altre race oh madonna madonna e poi una logica aveva messo forse no 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 era un'altra non altro ha fatto un race era esatto non mi ricordo per esempio poi slime climbing e poi bloccati o per il monte è vero ma io provo le eliche eh vabbè ho fatto una cazzata ma ma si è qualificato vabbè vabbè ma che skinnite bello non me la trovo bello ce l'hai fatta? si si ok sono cieco sono cieco no eh non dirmi che mette il virus mette il race secondo me quello lì delle pendenze secondo me mi ci lo metto no no il covid il covid ok ah c'è un blu mi ha contagiato pure a me 3 vai 1 1 1 io 2 questo tizio dobbiamo contagiarlo o no no ma come tu ci sei aggiornato? è vivo scusi è vivo scusi è vivo ma il giornato mi sa che è spento ci sei Alessandro perché io sinceramente faccio l'ultimo a sto punto quando ti manca? ah è easy si vedo a sto punto anch'io perché tre ore mi piace sto gioco mi piace però dopo un po' però non devo dormire non è un casino anche te eh se dormi oggi è un casino ti svegli tipo alle 18 adesso in questo momento io ti consiglio se vai al mare ti passa subito il sonno io facciamo così quando ritorni dopo il mare è un casino eh quello te lo devo dire è un casino io morivo io faccio un tiro bravo si è lo sport queste cose qua tengono svegli io facevo baseball quindi mi prendevo sveglio con quello oddio porco demonio oddio sto sopravvivendo oddio oddio incredibile sono incredibile non bevo caffè non mi drogono fu sono incredibile oddio aiuto 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 ok vabbè dai ne facciamo ancora una mi ha beccato dopo il livello quello più lungo di tutti che ok restiamo giù ci dai qualificati ma come ti posso chiamare rapollo come ti posso chiamare chiamammi rapallo gaming channel Aspetta, oppure chiamami rpc Rpc Rpc, tu hai la PS Sì, sì Certo E io Ma pure te ce l'hai la PS Ok, comunque io sono Entrato Boh, dai, che dici, abbandoniamo Se poi volete continuarla Nessuno mi impedisce di Vabbè, dai, ma tanto Tanto, a parte che il livello te lo sei fatto Cioè, non so Quitiamo? Va bene, dai Grazie Prego, prego Ok, in teoria l'invito non mi sa che non va Quindi ti invito Ecco fatto Invita Va Ok Ok Vai Vai E' il piccione Ma se è il livello Eh, il piccione ce l'avevo anch'io Che ricordi? Sono ancora un po' indietro Eh sì Ma hai detto che hai già vinto? O no? Sì, ne ho vinto ora Madonna, come hai fatto? Ho vinto tre giorni fa Non so come hai fatto, assurdo Complimenti Grazie Ho ancora Ancora il nuovo questo L'ho fatto apposta Questo è lungo È lungo da fare Beh, dipende dove vanno tutti Sì Io vado sempre in mezzo Esatto, quello lì è il trucco, infatti Vai sempre in mezzo Oddio 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 Io sto sempre un po' indietro Perché Perché C'è Tutti liberi Io qua non mi fido Ora sì Ok Vai 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 Ok Hai qualificato No dai scherzi Ma guarda che io ti vedo È che sei qua Eh eh No 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 Ok Aspetta Dilan, te ti sei qualificato? No Vaffanculo Porca Di quella Non dire altro Oggi abbiamo un po' Detto tanto Non come le altre volte No Cazzarola No No Dai forse Forse sì Forse sì Dai Dai non ci sono 45 persone qua davanti Si può fare Penso 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 Dai corri corri Stupido dog di merda Ok Ok Va 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 Faffanculo dai Dopo è schifoso Ok mi sono qualificato Bravo Io sono stato il 22esimo Dai vai 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 Ma porco Dio Ma perché devono bilanciarlo così? Ma Dio Maiale Cigliale Non è possibile Ma non è possibile Cazzo Oddio Guarda Guarda Stronzi Oddio Oddio Vai 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 Ce lo fai ce lo fai ce lo fai Oddio Sì Meno male Mi dispiaceva Porco Dio Levati porco Dio Vai Meno male Meno male Meno male Non mandava di non essere quelli che A questo punto mi sa che sei il migliotto del Masseo Cioè Eh no Non lo batterò mai Lui vai Sì che lo batterai Ma scusa Questo gioco fa bestemmiare Te la dà lì Su un piatto d'argento la bestemmia Oddio Con 35 cosa si fa? Il virus Allora Il virus Poi quello delle palle Vabbè Joking team Survivor Io dico survival Il tronco No team Eccolo qua No Ok Bravo È indovinato Vabbè dai Qua si può fare Io sono sempre morto Sempre E vai da un tronco all'altro E basta Ce la puoi fare Oh D già spinge Mi di oshi Ok Cambiamoci Quante pubblicità di Spotify Vabbè No Non spinge Ma non gioco Dai già quattro morti Non so come Oh ancora spingono Ma cosa hanno Qualche pubblic Ciao Ecco Buonasera Buongiorno Sto muorendo Belli 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 Oh Madonna che fortuna Questi Eh sì infatti 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 Non so perché ma è vero 8 su 14 9 su 14 Dai Sbrighiamoci Che qua La gente Very cancer 12 E vai E vai E vai Bene Sì sì Anche perché non sapevo più dove andare Oddio non è No no ancora no Eh qua potrebbe mettere calcio O le palle Forse Speriamo Io non l'ho mai fatta calcio Non è tanto bello No Cos'è Cos'è io non l'ho mai fatta Deve andare dentro gli anelli per prendere i punti Un po' A culo Ma in team Sì E che team siamo noi Andiamo Blu Rossi Va bene Ma io A fianco di un cerchio Meglio che giallo Oh bravo Nice 5 punti Ah maledetto Vai L'abbiamo preso noi Io l'ho bloccato È stato un buon lavoro Di squadra Accidenti Eh questo è difficile da prendere Qua davvero io Non ho mai capito Ah ma ci ha fatto No L'ha preso il blu Maledetto Cavolo stiamo calando Ci va a 9 Ma la nostra squadra Non fa niente A parte noi Chi ha O 10 Ho preso io 13 Cazzo però No L'ha preso il gianno Cazzarola No Dai perché Oh 18 Forse Ma pure che noi siamo I rossi Ah 31 Ah ma che cazzo Stavo guardando Non ho notato adesso adesso No parole Stavo guardando i blu Io Ok 33 Ma infatti mi sembrava strano Infatti Ti immagini che perdavamo E ti favo per i blu No E che brutto Eh però comunque Attenzione No Oh 41 15 Ok Ok Va bene dai 3 2 1 E vai E vai così Evvivo Nice Bene Nice Adesso c'è Un altro survival Ora un finale Allora vediamo Dipende Siamo in 10 ora no No 14 Eh no no C'è ancora qualcosa Eh no Non lo so Forse Mi sa un survival O un race Un solo Forse Secondo me Ecco lo sapevo Che era questo Porca puttana Questo è brutto Ma papà Non c'è me Beh lo so Tu devi Devi lasciare andare gli altri Un'altra Ma E questo qua non è un'azzeccato Questo è le hack Oddio No ma porca miseria Sto dog Qua mi sa che 8 No mi hanno fatto caderemo Anche a me stanno spingendo Maledetti No ho sbagliato Qui sto spingendo Scusa Oh Cavolo Ok Oh Cavolo La sanno tutti saltare Ma sanno tutti saltare Mi ha fatto un trucco nuovo Ecco abbiamo buttato giù uno Ok il pollo va di qua Il pollo va di qua Il pollo Il pollo No Il pollo sa la via Il pollo non sa la via Dov'è No Dov'è la strada No Dov'è la strada Aiuto No aiuto Mi sa che non ce la faccio Dov'è la strada Ma dov'è Oh Ok Trovata Eccola qua Porca Eva Porca puttana No Tu ti sei qualificato No purtroppo no Vabbè Ma dico Dylan Si Ok dai Ah qua mi sa che c'hai gli esagoni eh Se sei fortunato Se no Se no c'è il tuo preferito adesso Guarda Guarda Ora te lo metto Guarda 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 No no parola Quarta volta Non ci credo Vai a destra Fidati di me Prova ad andare a destra Forza 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 Veramente Come davvero qua c'è l'intervento divino non è possibile Solo due spese Logico Figlio di puttana Tomaro Mi so C'è qui Sì 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 Succhi Succhi anguille Ospedale Magari si alza ecco No aspetta Barbarava Ha vinto quello là che ha spinto tutto il tempo questo qui 16 volti di filo che faccio sta Perfatti Ma che cazzo Dio minchione Manonna Livello 33 Vaffanculo Vabbè Io cosa Io vado Ok Alla prossima Ciao Ciao Bella Vabbè dai Facciamone un'altra Ok grazie Ma vincere dai Fino a Dai 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 Quanti vittori hai fatto tu? È zero Niente Sai quante volte ci ho provato? Quante bestemmi ho tirato Ci ho visto Mamma mia Una volta Qualificato easy Ok Easy E poi E poi hai visto Ma come cazzo si fa? Ma poi davvero qua Ma come cazzo si fa? Ma non è la prima volta In realtà È successo altre quattro volte Ma non l'ho pubblicata E le altre Non è possibile Non è possibile Vabbè dai Questo è easy Disconnect from the server Ma Ok Poi non neanche ti dice opzione No Ok Perché tu devi essere d'accordo Non puoi dirgli Niente Mamma mia Ok Ok Vai Vai te ci sei? Ok Perfetto Ok ti vado Sono un po' più vacchia Va bene Oh cazzarola Sta porta Oh mio dio Sono bloccato Sta porta Ok perfetto Va di qui Ok io ho qualificato Pure io Perfetto E questo è fatto Ok Va bene L'area Ness'è studiata L'unico C'è l'ultimo A qualificarsi Ok Oh no Ora mette quello con le palle Quello là che Tipo palla a volo Da mette No ti prego No Eh ma quando è così O quello il virus Met Cazzo Spero il virus Sennò una cosa strana Però è strano No è solo Eccolo qua Arriva il virus Ecco le palle Te l'ho detto Eh sì Guarda se c'è uno dog Team giallo Non mi sembra Oh infatti Va bene Ci sta Ci sta Io vado a leggerli a rubarle E ti voglio Te c'è Mamma Siamo tutti Ma 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 Non avevo voglio Qua è Cosa Verso le nove metri Dieci Certo Eh No È stupido Eh bo Verso le Non mi ricordo Sarà Otto No Nove Sì Ciao mamma Ok Si ha messi male Si ha messi male qua Abbiamo zero palle Ne abbiamo zero Niente Dai Noi rossi non l'hanno mai fatto così schifo Dai Madonna Oh neanche una Ma neanche una No Dai che palle Sì Vai una Mi manca una Una per pareggiare Ce ne serve Due Due pari Almeno c'è il sundet Coso Dai ci fa questa la terza Dai che va a tre Dai che va a tre No Cazzo Però va bene anche così Va bene anche così Dai Se resta così la situazione No porco due Porco due dai Dai nei rossi Butta nei rossi Non nei gialli Porca miseria Ah Per caso Forse siamo stati In unici due Non è che abbiamo fatto un qualcosa Non è fatti Vabbè Boh Io sto giocando da tre ore E sei minuti Dai dai Mi dispiace Mi sa che è stacco Ti saluto Buona mattinata Altrettanto Ciao Grazie mille Grazie mille